Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un'episodio di Eurotrack Simulator 2 E oggi volevo terminare il viaggio che avevamo iniziato verso Verso Zechinek Zechzechinek Zechinek Non so come si legge Anzi, vado su internet Vi dico la pronuncia precisa Zechinek Eh, pronuncia Vediamo com'è Zechzen Zechzen Aspetta Zechzen 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 Vi sentite? Zechzen Ok, grazie Ecco, vabbè Ok, allora eravamo rimasti qui Come on, dai ragazzi Dai che ci affacciamo Bene, lenta verde, faccio passare sta macchina E dai però, bauscia Noi adesso andiamo a riprendere l'autostrada, insomma Non so se ci becchiamo anche un altro rosso, però... Dai vai Ok, ci becchiamo a sinistra Non mi interessa tra molta Tanto abbiamo 14.000, possiamo pagare tranquillamente il nostro prestito Il nostro... Il nostro prestito quotidiano, insomma Eh, ce lo possiamo permettere, insomma Questa è un'opera Allora ragazzi, che mi raccontate? Che mi raccontate? Perché... Non posso parlare... Non posso parlare tanto forte perché... Praticamente c'ho... Cioè, mezzanotte 10 Praticamente mezzanotte 10, quindi... 20 Diciamo 20... Eh, che sarebbe un quarto diciamo 20, però... Sono mezzanotte 20, quindi... Non posso gridare tanto, non posso fare il coglione, come al solito Posso solo chiacchierare pochissimo perché... Volevo finire perché volevo giocare un po' al track Quindi... Sono un pirla perché non mi creo un mondo... Non mi creo un profilo apposta per lo track Per YouTube intendo Anche se l'avevo fatto poi l'ho perso Poi però... Boh... Allora ci mettiamo in autostrada E domani tra l'altro entravo le 9 Quindi posso stare un po' di più Non mi interessa nel fatto che... Del fatto che... Se vado a letto tardi oggi A patto che... So buffo... Si sorpassiamo così per forza perché fanno i coglioni E cazzo devo fanno... Tranquilli poi... Ci manca 300 km quindi... Quindi oggi è tutta così insomma Vi faccio sto video breve Ok... Finiamo la strada Entriamo Andiamo ai 90 più o meno Ok va bene insomma More or less Va bene Perfetto Dai che ti supero così dai Bufu dai che ti supero dai Non fare troppo bufu che ti devo superare Oh... E siamo in autostrada Tranquilli tranquilli senza problemi Siamo verso... Adesso vi dico dove Ci manca 4 ore 230 km Ma mancheranno molto meno con... Vabbè non è successo nulla Vabbè... Ci prendiamo il casello Pedaggio E adesso si parte Ci mettiamo sulla sinistra Ovviamente Perché... Questo quando non cambio le marce Te lo dico È difficile Vi dico Sembra facile Con la pedaliera che ho Ma è difficile guidare Perché... Perché... Avendo il cambio manuale Devi schiacciare con ottenzione il tasto Se sei in curva Ma... È difficile schiacciarlo Perché... Girando il volante Girando il volantino Che c'ho... Comunque... Capite che è difficoltoso Insomma... Allora... Siamo in autostrada Tra poco vorremmo arrivare 140 Come avete visto Ve lo faccio vedere anche sul navigatore Ops Nacala Chi è? Ah... Clash Royale Scusate Ci stanno 30 gradi fuori Non sta bene insomma Voi come state? Su 30 gradi Non è... Non è realtà ovvio Non dirmi dovevo uscire Ah no ok Ho sbagliato Boh Vabbè... Siamo a posto Non è che... Mi fa differenza E fa andare... 250 km in più Insomma... 250 sono tanti Però... 3 ore ce le mettiamo Non di più Sta entrando in Polonia quindi... Non c'è problema Ah... Che palle che siete... Madonna... Scusate... Non fatelo in realtà Perché... Li puniscono Non t'azzardare Eccola Vedi... Vedi? Vedi perché? Vedi perché ha fallito Sono un pirla Perché mi si carica tutto quel traffico della Madonna Capito? Ovviamente io voglio fare prima Capito? Da adesso... Lo dico per voi Ricarico i dati un'ultima volta Lo faccio per voi Perché voglio... Voglio essere serio stavolta Se non c'è realismo Anzi... Preferisco... Allora... Questa è l'ultima possibilità che abbiamo Ritorniamo qua Facciamo questo punto così Così allunghiamo anche un po' il video Perché... È già venuto lungo di su in teoria Perché sto registrando tutte e tre In un colpo solo Sto cercando di... Di farlo tutte e tre In un colpo solo In modo da terminare velocemente il viaggio E poi... E poi ragazzi... Sto cercando di... Sto cercando di... Sto cercando di... Stare tranquillo Perché... È vero che è venuto lungo il video Però... Sto finendo anche lo spazio sul hard disk Quindi dovrei... Dovrei fare pian piano Editarmeli tutti E mi va via mezza giornata Un giorno vorrei mettermi lì Per esempio sabato sera E ritarmeli uno ad uno E... Rendering, rendering Capito? Devo fare la rendering In modo da... E cancellare i file vecchi Perché? I file... Spezzettati No perché... Io quando registro Ho dei file spezzettati Da 4 giga 4 giga l'uno insomma Tipo 20 file da 4 giga tipo Perché ho messo le impostazioni Spezzettarmeli Ogni 4 giga Non so se è conveniente però Penso di tornare al file interi 80 giga interi Si tipo così Capito cosa intendo? Se faccio un video Di 40 minuti Mi esce 80 giga Facendo quello Facendolo di un'ora Mi uscirà 120 giga Per dirvi E ci metterò Un bel... Un bel due ore A caricarlo A renderizzarlo C'è la coda C'è la coda Ma chi è che mi è venuto addosso? Porco No! Alt! Ho fatto danno? Cazzi miei Così imparo ad andare forte Dobbiamo uscire anche dall'autostrada quindi Non mi interessa del 2% Anzi Gli soldi non mi interessano Mi interessa soltanto viaggiare Non mi interessa Ok perfetto Ok perfetto Capito? Mi interessa viaggiare Ma non mi interessa Fare casino Per un cazzo di cosa Capito? Un cazzillo di cosa Tipo così Ok Ok verde Adesso usciamo dall'autostrada Semana decima C'è una statale mi sa Secondo me Forse è super strada No Statale Scherzavo ragazzi Scherzavo 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 Ci si mette sulla prima corsia così Ok Teniamo bassi ovviamente I Così Ma että trafficone Eh si che c'è un trafficone Facciamo attenzione perché potrebbe essere Lunga la faccenda Perché ci manca Un botto di strada Tipo Mucio Ne lamentiamo Perché ci serve Perché andiamo a piano Che soldo ragazzi Quasi mezzanotte e mezza No cazzo faccio E poi sabato andrei anche Da folgore quindi C'alla Poi vedrò Perché stiamo andando SZCZ E Cine Attenzione La strada Un pochino L'allentiamo perché è molto importante Tra poco Orremmo essere anche arrivati Mancano 160 km Non mi interessa Ok chiudiamolo Ci facciamo Che dove Sto poi entrando in città L'allentiamo un bel po' Però se non è a merda così Mi metto così Porco 2 No questo lo carico Porco 2 Vai Fatto Adesso mi impegno Mi immedesimo nel coso E che mi sente più adesso Da adesso mi impegno sul serio L'ultima volta che carico L'ultima volta che carico Perché comunque c'è stato Non l'ho colpito Dai Mettetelo Ok ragazzi Sono tornato Con 1% di danno Però Ho fatto Venuto addosso Una macchina Però Fa niente Ci manca 37 minuti Perché siamo Fatto Fatto un po' di strada Comunque Sono quasi arrivato Sono già I 35 In verità Ma intendo Siamo a strada C'è passaggio livello Non mi interessa Ok perfetto E tra poco Arriviamo Verso la strada Dove dobbiamo arrivare Perfetto Tra poco Siamo arrivati Gira Coglione Grazie Mi fa un favore Ma Beh mi fa un favore Perché Comunque Stiamo rientrando in city Come dire E poi E poi Come dire Siamo quasi arrivati Ecco Non girare Mi sa Ok perfetto Ok perfetto Fatto Siamo quasi arrivati E poi Ragazzi Vi saluto Perché Veramente Devo andare a letto Sono stanco Mi fa mal la testa Sono Cotto Sono cotto Come un salamino Cotto Di bobo Devo fare Sto video Perché Volevo Finire Viaggio Ok Siamo arrivati S S Zezionich What the fuck Di qui Di qui No Ok No No Allora Fatemi parcheggiare Perché Sennò Beh però Ci ho messo Gostia E basta E basta E' difficile Ma perché Mi fa fare Gameplay Senza Allinamento Parcheggio Semplice Voglio Vediamo Vediamo E' che Pasqua Scusate S'ho accettato Ma Qui non riuscivo Se non riuscivo A mettermi Se no Devo chiudere Il video Chiedo Vegna Vabbè Non è importanza Ragazzi Io vi saluto A casa Ciao a tutti